Bene, io ho frequentato la Basso nel 2011 e in realtà mi ha dato una buona visione su quello che sarebbe stata poi la mia vita, più che altro mi ha dato una buona presa di coscienza rispetto ai temi che poi sarei andato a trattare. Attualmente mi occupo di MUAS, dei radar di Shemi della base americana e il fatto di aver avuto a che fare con dei professionisti seri e molto bravi e che ci hanno guidato anche nella costruzione delle notizie, dell'ITAR che fa la notizia e di come tenere la schiena dritta in qualche modo, come diceva Linda Bimbi a tutti noi alla fine del corso e che ci è rimasto molto nel cuore questo motto e penso che alla fine sia stata un'ottima esperienza che ripeterei mille volte e che consiglio a tutti quanti.